Ok, ci abbiamo rerun, le challenge Ah, il bello è che in una delle interviste hanno chiesto a Macmillan di chi è stata l'idea di Ultra Hard E lui ha risposto è stata mia, è totalmente colpa mia Quindi abbiamo Scatman e Picaran Ma scusa, aveva detto 10 challenge nuove Da 35 a 44 sono 9 Vabbè, forse ce n'è una segreta Smanettiamo nel menu un pochino Ma non c'è molto nel menu, eh Io l'avevo già controllato L'unica cosa che c'è di diversa è la Bullet Visibility che non l'ho provata La mettiamo su Aya adesso così vediamo Anche le stats mi sembrano Cioè potrei controllare Ci sono altri due finali A meno che non hanno cambiato qualcosa Vediamo come sono le lacrime visibili Esatto Dai proviamo questa Scatman Ok Allora è fino a mamma Abbiamo oggetti a tema cacca È un esercito di cacche che ci segue Ah e siamo ciechi Cioè non possiamo sparare Ok Mi sa che questa c'era nell'originale Abbiamo pure Stompi Uh bello questo Questo è un culo che abbiamo avuto Di beccare sta sinergia Non penso che sia programmata Noi negozi ci sono Se vai via tra una mezz'oretta Secondo me questa challenge ce la fai a vederla Fino alla fine Anche se sono sculatissimo Cioè Oddio non lo so Magari non è neanche così improbabile Però mi sembra di essere stato veramente Ma veramente fortunato Sono overpower Beh è una combinazione di un sacco di oggetti Tra cui BFF L'hai fatta questa Ah ok Skidipipopopop Sì Abbiamo pure Scatoll Quindi le mosche sono Meno potenti Bella però sta cosa L'esercito di cacca è carina come idea Gli oggetti che abbiamo tra l'altro sono Il Ninevolt Skatoll E Icoli Tre copie di Bat Bombs BFF Thunder Tides E l'oggetto nuovo che ci dà le cacche amichevoli che non lo conosco Questo è un boss nuovo Ti immagini le lacrime visibili non si vedono perché Ah ecco come sono Ok 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 Ma è bellina sta cosa perché ti parano anche Tipo la build da necromante però è con le cacche Il caccomante Il caccomante Avanti Ammazzatelo Aia E il bello è che comunque la combinazione di oggetti che ti danno lo rende molto fattibile Nonostante tutto Questo è un buon oggetto Allora sarebbe furbo entrare nella course room Chissà se puoi fare questa challenge prima di aver sbloccato Skatoll No non credo Ah Giusto che sparano Va bene basta basta Ho perso abbastanza vita qua dentro Chub dislike smoke Ma che mi sento preso per il culo Proprio la cosa più emblematica Ed è delle carte inutili Aspetta però vediamo se c'è un solarte al negozio Non c'è un solarte al negozio C'è questo C'ho space Non è utile a noi Ma che succede Eh sto provando la challenge Ti danno una combinazione di oggetti specifica E quindi E ti tolgono la possibilità di sparare Quindi Invece di attaccare io Devo affidarmi all'esercito di cacchine In teoria questa è una cosa che puoi fare anche giocando normalmente Tranne per l'essere bendati e non poter sparare Non è Non è stata una grande idea Infatti non voglio usare tutte quelle bombe per prendere una chiave Allora gli attivi non ci servono La chiave la posso pure comprare Potrei uccidere questo tizio Uh ho fatto male alle mie cacche Poverine Oh no La Corsa The Maze Ancora Oh no Un'altra volta Ho fatto una piccola chiamata ai federali Sulla posizione del nostro amico Milaos Salta Ma io non ho fatto niente Ti ho detto di salta Cioè no Non mi interessa Ok Allora Minchia quella scena comunque quando ero piccolo Mi faceva spaccare sempre C'è tantissima roba Allora la cosa più sensata è farsi il boss Però in effetti noto che io il boss ancora non l'ho trovato Chissà se puoi fare questa chiave Provi Tear Detonator Magari fa qualche gag con le merdine No non credo Non dovrebbe Cioè mi sembra un po' Uh devo toccarli i nemici possibilmente Mi sembra abbastanza improbabile sinceramente questa cosa Cioè lo potrei pure fare in effetti Dice tanto sono in una challenge Costa 7 Però Cioè secondo me se gli hanno cambiato qualcosa non è di certo questo No sei tu che stai di fretta Niente Ok 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 le cacche sono immune ai fuochi almeno Questo Questo mi solleva Mi sollieva Che cazzo sono scemo non ho usato il Joe Spade E' bello che me lo sono tenuto dicendo Eh la prossima volta che uso una chiave Assolutamente In genere ho altre chiave con Joe Spade E non so perché parlo con questa voce No allora Vabbè non importa Troveremo un'altra occasione Andate Mie merdosi prodi Prenda la carta Magari è un Emperor Purtroppo c'hai ragione Non c'ho voglia di farmi tutta sta strada Però al contrario Abbi pazienza Ok Spero che questo non comprometta Le mie chance di vittoria No dovrebbe aumentarle perché mi genera delle cacchine Ok Bello il muro Il muro di cacche Veramente Bellissimo Forza Beh Oh ma è carinissima sta cosa delle cacche A vederlo nella mod Non mi sembrava un granché Uh e mi ha pure convertito Le cacche generate da lui Come Sono diventate amichevoli Ok E abbiamo pure il fatto Allora Penso che sia sensato Non prendere il forget me now Perché non devo rinunciare all'oggetto attivo Che già ho Però potrei Fare un po' qui Ah cazzo l'hanno cambiato Però non ti prende più il cuore Bianco Ok hanno cambiato Che praticamente adesso Non Ma si Chi se ne frega Non puoi più abusare Dei frame di invulnerabilità Per ottenere Due Utilizzi da Un solo danno Lockdown Ma vattene a fanculo Sai c'è Oh cazzo Potevo fare avanti Vabbè dai Non importa Prendo questo E Mi ha pure curato Gli aumenti di vita Ti curano adesso Perché non è la prima volta Che ci faccio casa Almeno si ricordi Della Cursed Room A fine piano No perché Quella me lo toglieva Il cuore bianco A sto punto Visto che il Il mendicante Non me l'ha tolto Tanto vale Tenerlo Perché Su l'arte Non ne sto trovando tanti Ma comunque I patti Mi servono Fino a un certo punto Sarà Sarà lunga Fare envy Senza usare bombe Però comunque Allora Con BFF Fanno un danno Rispettabile Queste cacchine Certo In una run Dove si può sparare Sicuramente Sono un aiuto Più Più Di supporto Ho perso il patto Mannaggia a me Un pochettino Di velocità In più Sarebbe stata gradita Ah mi son curato Ok Uh però Questo è un altro Metodo di attacco Che sicuramente Non sgradisco Allora entriamo qui E Troll bomb Ah non credo Che sia una challenge Tanto difficile Sinceramente Oddio Cos'è quello No Ok però Almeno Se lo tocco Bene Ok Teniamo conto Che non tutti i nemici Fanno danno da contatto Questo Lo fa sicuramente Attaccatelo Vi prego Ok L'ultimo Mimic Mi ha preso Completamente Di sorpresa Non so se Hanno cambiato La skin Dai io lo farei Ci ha dato pure Un amuleto carino Che però Non Non intendo Prendere Ovviamente Quello che abbiamo Ora è troppo Più utile Anche un cuore Ogni tanto Lo gradirei Non stanno uscendo Però Già il fatto Che sia possibile Sai che non lo so Se le voglio Queste lacrime Più visibili Perché non Non mi danno Fastidio Però nemmeno Ne sento la necessità Sicuramente A prezzo Che ci siano Belle le lacrime Luminose Stavamo parlando Guarda un po' Death 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 Non è facile A pronunciare Death Poi pronunciare Fogliare Ok Che bello Che diventano D'oro Che bello Che diventano D'oro E' una cagatina Però è E' bella La provo La cosa strana Di questo DLC Che la maggior parte Di queste migliorie Qua che vedo Sono quel genere di cose Che dico Bello Ma io sinceramente Cioè Stavo già a posto Così Cioè E' come se Ti mettono Proprio La ciliegina Sulla ciliegina Neanche Che è necessario Chissà quant'è Il massimo Di cacche Che puoi avere Con la curso Ah può essere Sì in effetti Con Con la curso Darkness Magari Beh il senso È che devono essere Più luminose Poi non Non so A quanto pare I nemici Possono targetare Queste cacche Che normalmente Non gradirei Più di tanto Come cosa Però Dato che ne ho Tante Non è un problema Ok Niente Di utile Strength Però potrebbe Tornarmi utile Probabilmente Più di detto No In realtà No Ora che ci penso No Va bene Uh Un sol art Uh Una caramella Vedi sono queste Quelle che fanno Danno ad area Che dicevi Prima Ma guarda che ha un pattern Nuovo Il cazzo Di pin Beh Qual è l'alternativa Di Empress Tipo un aumento Di velocità Nel piano Cioè nella stanza In cui lo uso Quindi Più di utile Di strength Dottore Metta le sue ciliegine Sulle mie ciliegine Questa è nuova Questa è nuova Mi sa che è nuova Io non ricordo Di averla vista Prima Ah no Te lo volevo Rifacciare Non si sa mai Il bello è che Questi piani Già c'erano Però Non c'erano I riflessi Cazzo Ma se non avessi avuto Questo orbitale Come facevo Qua Ma lo sai Che gli hanno Anche chiesto A Macmillan Della stanza Con la cacca Nera La stanza Super segreta Con la cacca Nera Avrai sicuramente Presente Che ormai È diventato Un meme Vuoi sapere Che cosa Ha risposto Se no Ti lascio All'intervista Sapevo Che non me l'avrebbe Perdonata mai Tipo La nuova Gag Sarà Fare Shaming A Brodino Bombe Shaming Cosa ha risposto Ha risposto Che lui Non ne sa Assolutamente Niente Era sorpreso Di questa cosa Quando gliel'hanno Chiesto Dice Non lo so Forse l'ho lasciata Lì per sbaglio Oppure Mi sono Cioè La volevo fare E poi Me ne sono Dimenticato Proprio Tipico Suo Madonna Non dovevo Farlo Però l'ho Fatto Accidentalmente Hai visto Come è schizzata La moneta Sull'acqua Quando Ho cagato Che stranissima Combinazione Di vocaboli Nessuno Vicino All'altro Dai Attaccatelo Vabbè Faccio io Tu Tu Che cosa Mi rappresenti Di preciso Ah Quello Che mi dà Le cariche Giusto Quindi Per il momento Non è importante Immagino Anche se Allora Se finisco i soldi Magari Cioè Se non finisco i soldi Gli do tutto Magari mi dà un oggetto Una batteria Questa fuori contesta E' terribile Che delusione Ma io me l'aspettavo Un po' Cioè Nel senso Non è nuovo Macmillan A queste cose Che sono strambo Allora Usiamoci tutte le monete qua Perché se mi dà Tipo l'abito da suora Qualcosa del genere A me viene comodo Non posso sapere Se lo fa Ovviamente Bene Questo Questo va benissimo Jumper cables E' buonissimo E' letteralmente Buonissimo In questa situazione Perché dovrebbe funzionare Con Con le cacchine Quindi otto nemici Uccisi Uguale Un'altra manciata Di cacchine Mi pare E si basa sui nemici Che muoiono Non su te Vabbè Che si ricarica Anche sola Però Sono cariche in più Male non fanno Ok Non muoiono Neanche sulle spine Che è bello Che comunque Abbia deciso Di graziarci Con questa cosa Qui Una stanza segreta Ci sta Chissà se Troppa Tutti gli oggetti Del pull Beh Non esiste Un pull Delle batterie O almeno Non è mai esistito Però Questo non vuol dire Che non potrebbe Esistere adesso Però si Potrebbe Troppare Tutte Potrebbe avere Un pull Composto Da sole Batterie Ma infatti È la prima cosa Che ho pensato Infatti Mi ha droppato Una batteria Abbiamo un sacco Di bombe Che è buona Ah giusto Ecco Come facciamo Se non possiamo Raggiungere i nemici Con le bombe Che ce le hanno Date apposta Ok Lì c'è un dado Dobbiamo stare Molto attenti E molto calmi Non so Se i funghi Facciano danno Da contatto Non credo Di volerlo Scoprire Adesso Ok Stavo pensando Comunque Vedo che le cacche Stanno facendo Sempre più fatica Qua c'è una roccia tinta Dovrò imparare A individuare Le nuove rocce tinte Per forza E lì c'è il negozio Quindi Adesso Esteticamente Non c'è possibilità Di confondere Negozi E librerie Allora Play to play Non mi serve Ecco una runa Comunque Agalaz Eh l'effetto Agalaz Che roba Vediamo Io andrei Nella stanza Del dado E un 4 Come speravo Dead devil Che rumore Delle brocche Che strano Prima di Rirollare Quello che c'è Nel negozio Vediamo Che cosa ci esce Tipo al patto E compagnia Eventualmente Vai Fissula Non dovrebbe essere Un grosso problema Soprattutto Con le bomb Quando si divide Un po' Esatto Aia Un po' Di caos Arbata Delle cacche Cazzo Forza Vabbè Ok Allora Io lo rirollerei Perché un aumento Di tiers In questo momento Ne posso pure fare A meno Tanto Devo comunque Rirollare Alla peggio Ci esce un altro Aumento di vita Quindi Vediamo Un po' Diplopia Allora Questo intanto Lo prendo Vediamo Che cosa Potremmo Diplopiare Nel caso Che palle Però eh Il ciuccio Io lo diplopio Il ciuccio Perché tanto Non abbiamo Di meglio da fare Per il momento Con questi soldi Aspetta E la runa Una blank runa Allora Facciamo così Diplopiamo il ciuccio Usiamo la Vabbè Non è servito Però Non ci è costato Niente Quindi Al momento Noi avremo 4 e 48 Di tiers Madonna Sarà difficile Riadattarsi A tutto Prendi il bimbo Il bimbo Ah Forse ho capito Quale dici Eh Sì È un oggetto In effetti Che dovrei vedere Se l'hanno cambiato Devinse Per i capet Sì Beh Se finisco La run Qualcosa di nuovo Mi dovrebbe uscire Chissà Non mi faccia insultarla Il giorno Il giorno Del compleanno Ah sì Vabbè Io non lo so Quello che intendi Però Ti devo Correggere Nella mia Natura Perché pull È un termine Molto specifico Quindi Azz Va bene Vedetevela voi Non lo so Io vado da questo Mi sta massacrando Tutte le cacche Con la maschera A voglia Non mi è piaciuta Quell'animazione Che ha fatto All'inizio Di confusione E Basta Ok The world Utile E The tower The tower Potrebbe essere Molto utile In realtà Sono una normalissima run Bendata E niente di che Ma sei andato via Quando Scusami Prima che iniziassi La challenge Prima che finissi La run Di prima Non so quanto Ci sei stato A farti Sto panino Tu Sarai Merda No Ok Sì Iniziamo Strength Oppure Tower Ok Tower Tower Bello Siamo Senza mappa Ci metteremo Un po' a finire Di esplorare Sto piano Mi sono infilato In un bel pasticcio E già E' proprio Una bella Gatta Da pelare Lo sapevo La generazione Delle stanze segrete Direi che non è cambiata Vabbè Questo lo posso Far saltare Non mi lamento Ok Quello Dovrebbe essere Il negozio Smettetela Smettetela Lasciate Uh Un Crawl Space Il primo Crawl Space Di Repentanza Attenzione Vediamo che cosa Ci troviamo All'interno Ok Almeno C'ha un layout Un po' diverso No Ho cagato Per sbaglio Dove non dovevo Lo solo Effetto Non credo Che abbia Una qualche Utilità Sono andato Quando Brutino Ha iniziato Insultarla Vabbè Comunque Sto facendo Una challenge In cui si attacca Con l'armata Di merde Proprio detto In due parole Perché non posso Sparare L'ultimo Dai Che fastidio Ok No Questo potrebbe Essere un problema Questo lo curo Con le Ah però Le cose che mi genera Sono alleate Quindi È un problema Anche per lui Questo me lo ricordo Ma non mi ricordo Cosa fa Mi ricordo Quello snack Lì Uh L'ombra di Giuda Sì Allora Facciamo così Mamma mia Non vedo più Un cazzo Però va bene Non è importante Che gli stia Attaccato Non lo è più The world Vabbè Per il prossimo Piano Lovers Perfetto Non potevo Chiedere di meglio E poi Wheel of fortune Ne parliamo dopo Magari Ok Non è utile Però ci abbiamo provato Allora Allora io lo prendo Questo perché ci serve E questo perché Se ci dovesse servire Sarebbe più Vediamo questo cosa fa Collect them all Ah il booster pack Ok adesso mi ricordo Joker Ace of diamonds Judgment E the moon Quindi Judgment lo usiamo adesso Joker ce lo portiamo assieme a A the world Credo Ah a questo Ti da adesso Allora The moon no Joker si The world Oppure The world Bombardi satana Cazzo E' vero E' vero Hai ragione Allora Questo mi sembra Che potrebbe Creare una buona combo Poi non so No in effetti No Non poi così buono Almeno Allora Usiamo the world Beh Cambia poco Ok Siamo al penultimo piano Comunque Quanto Quanto mi sta rallentando Non il gioco E' il E' quel creep Credo Che mi abbia rallentato Tantissimo Quello nero Allora Poi Mi conviene Passare Da qua Mamma mia Papa Papa Brodino, tu che l'hai fatta? Funzionava esattamente così in anti-birth questa challenge Full devil da gaz Terrei da gaz Non credo che ho fatto bene a venire qui Ok, qua sono veramente nella merda E non nel senso buono del termine Merda eri e merda tornerai Brodino non c'è, è andato via Ah, me lo sono perso Sì, sarò ancora in live Gli rispondo adesso, tanto ormai sei andato Tra un messaggio e l'altro il fatto che comunque il grosso delle mie attenzioni la sto dedicando al gioco Mi sono proprio perso quel messaggio lì Ma non esplodono più le bombe, cioè le mosche rosse Ok, allora, questo è buono Questo lo possiamo fare saltare E basta Se non ci esce il patto dobbiamo assolutamente No, esplodono, ok Forse l'esplosione è più piccola Dobbiamo assolutamente usare il joker se non ci esce il patto Ricordiamocene Ok Strano la musica Ah no, è l'ultimo piano Abbiamo finito Ok Mi sembra che non avremo tanti problemi Ok, è finita È finita Giusto in tempo per bombardare la stanza di Satana Non fa niente Questo sarebbe stato utile Riproviamo Ok, no, non fa niente Volevo vedere se c'era un effetto sonoro nuovo Quanto meno Non dico la grafica Però l'effetto sonoro sì E infatti c'è Ok, dai Abbiamo finito la challenge Dirty mind Mi sa che è l'oggetto per tenere le cacche Cioè per fare le cacche Insomma, quello con cui siamo partiti qua C'è pure la Daily Minchia se vogliamo provare Bethany Possiamo provare la Daily Oppure faccio una run normale e cerchiamo di sbloccarla normalmente Decidete voi Io la Daily la proverei Anche se so già che mi posizionerò una merda Perché voglio sperimentare col personaggio nuovo E poi ci saranno tutti gli oggetti sbloccati che manco conosco In effetti forse non è un'idea geniale Quindi se no run normale Possiamo pure provare la co-op Se qualcuno ha voglia Faccio Remote Play Together Linko il Discord Non è un'idea geniale